Palazzo, saluta, ecco Domenico Santoro. Sono queste le sliding doors del mercato del Bitonto che ha ufficializzato l'attaccante ex Monopoli e Casarano. Sul Loris Palazzo invece si è scatenato l'interesse di diverse squadre del Girone H perché Nardò, Lavello, Cerignola e Fidelisandria, quest'ultima in attesa di capire il proprio futuro e quale sarà la categoria, hanno chiesto informazioni per il classe 91 Bitontino. E' finito, come detto, nel milino degli Ofantini di Danilo IV che lo aveva già scelto per il progetto Sly United un anno fa e potrebbe tornare di moda per completare il pacchetto avanzato che già conta Giancarlo Malcore. E l'obiettivo è di rimpolparlo con Reder Rodriguez ma la concorrenza dell'Avello rimane molto molto importante. Sarà una lotta serrata a due per il Cubano. Il Molfetta invece, dopo aver piazzato il colpo Pozzebon, fa il bis. Ecco anche Antonio Caputo. L'ex Nardone la passata stagione è stato uno dei più determinanti e ha raggiunto la doppia cifra. Insomma, il mercato delle punte nel Girone H è diventato il famoso Valzer con avvicendamenti e cambiamenti. Bitonto e Cerignola davanti a tutti in questi movimenti ma guai a sottovalutare tutte le altre.